Le chiacchiere stanno a zero, inutile farla troppo lunga. Quelle che sto per inquadrare sono le ricevute di pagamento che vengono consegnate agli occupanti abusivi migranti da parte dei gestori del racket, probabilmente sia interni al palazzo stesso, quindi a loro volta migranti, sia esterni, probabilmente collegati ai circuiti dei movimenti per l'occupazione, che ormai sono diventati dei circuiti di veri e propri professionisti. Eccole qui le ricevute, le consegneremo nei prossimi giorni alla magistratura ordinaria affinché possa allargare i propri orizzonti, le proprie conoscenze rispetto all'inchiesta aperta e ci auguriamo che coloro i quali delinquono a casa nostra, come il caso appena manifestato e testimoniato, possano essere ricondotti a casa loro, rifugiati o no, non ci interessa chi viene a casa nostra e non rispetta le nostre leggi, chi si pone al di fuori delle legore, chi vive nell'illegalità deve essere immediatamente espulso e riportato a casa sua, senza se e senza ma. Eccole.